Sono molto soddisfatto perché 17 anni fa mai più avremmo immaginato un successo di questo tipo. L'idea nacre in unione industriale, poi fu sviluppata successivamente in altre sedi e però il metodo è rimasto sempre uguale. Noi abbiamo scelto degli argomenti, degli relatori assolutamente affidabili, persone in grado di trasmettere messaggi scientifici con un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Abbiamo scelto degli argomenti di largo interesse clinico. Abbiamo avuto come obiettivo quello di dare ai pazienti o ai cittadini non ancora pazienti gli strumenti per prevenire le malattie per ottenere nell'età più avanzata una migliore condizione di salute e una migliore qualità di vita.